Presidente, c'è una guerra sull'acqua di Canistro che il territorio lei conosce, la società attacca il vicepresidente Lolli e dice che l'unico che c'è la tutenza è stato il presidente di Pangrazio, come vede lei questo problema? Si può risolvere? Presidente, oggi abbiamo fatto la presentazione di una devoluzione di importanti benefici proprio su queste tre società, anche le attività immenditoriali che creano occupazione per noi sono di primaria importanza, non a caso in questa legislatura c'è un assessore proprio dedicato alle crisi industriali, il vicepresidente Lolli fa sempre un buon lavoro, sulla questione Santa Croce so essersi riavviato l'iter finalmente per la riapertura con l'assegnazione al vincitore del bando di cara, quella è un'acqua che appartiene all'Abruzza e considerata l'acqua migliore d'Italia, non solo serve per creare occupazione ma soprattutto per far conoscere il nostro territorio abruzzese che è fatto di eccellenze anche sulla qualità delle acque, io penso che la ragione non la debba avere nessuno, la ragione la debba avere il buonsenso e la debba avere soprattutto la verità che crea occupazione, che crea imprenditorialità vera, seria, che è utile alla nostra regione ma che è utile in generale ai cittadini che poi lì trovano occupazione, trovano futuro, trovano speranza.